Buongiorno amici del Grande Basket, puntata speciale non è NBA Lane perché non parliamo di NBA, abbiamo dato un turno di bye per rimanere in tema al buon mattia perché stasera, stanotte ci sono solo 4 partite NBA, neanche bellissime, Minnesota e Milwaukee si potrebbe anche spendere due parole, però abbiamo deciso di lasciare una giornata di riposo al buon mattia e di parlare e concentrarci sul torneo del momento, Merch Madness, torneo NCAA di College Basket, tra l'altro siamo al day 3, arriviamo da un all green 4 su 4, tra l'altro con un full stake nel teaser, nella doppia su Duke e Notre Dame, primi due giorni 6 pick esatte, un solo errore, 6-1 grande inizio, cosa facciamo in questo video? Andiamo a vedere le 8 partite in programma oggi più un consiglio per domani, sono solo primi consigli, prime idee, una chiacchierata insieme, anche se poi è un monologo, quindi non sono giocate ufficiali, di giocate ufficiale ce n'è una e ve la dirò quando ci arriviamo, è sulla partita di Providence comunque, ve la tempo e andiamo in fretta perché siamo in ritardo, tra l'altro sta iniziando anche la Formula 1, ci dobbiamo muovere, Baylor, North Carolina, North Carolina leggermente sfavorita, più 5 e mezzo, qui non ho grossi idee, si potrebbe andare su Myers, over 10,5 punti, arriva dal Carrerai di 22 punti, magari è bello gasato, è vero che l'ha fatto contro Norfolk, però è stato quello che si è preso più tiri, 4 su 7 da 3, difensivamente North Carolina concede tanto e soprattutto è 250esima nella nazione come difesa perimetrale, concede il 34,8% da 3, in teoria è attesa una partita ad alto punteggio, linea 149,5, Meyer potrebbe fare la sua parte, è una linea di 10,5 che potrebbe superare, non è la mia giocata preferita oggi però. Passiamo a Kansas contro Creighton, qua abbiamo Kansas favorita, io quando sono uscito nel VIP come consiglio e come analisi avevo Kansas meno 10,5 e già avevo una linea che mi faceva un po' strizzare, vedo però che il mercato va su Kansas meno 11,5, perché va su Kansas? Perché dopo Nambard i Blue Jays hanno perso anche il centro, Carl Brenner e questo è un brutto stop per una squadra che era già pessima a rimbalzo. I Blue Jays tra l'altro hanno faticato già al primo turno contro San Diego State, hanno speso molto mentre Kansas ha passeggiato come ci si aspettava contro Texas Southern, Creighton è quindi senza due dei suoi quattro migliori giocatori, in stagione ha preso già delle belle lavate di capo, ha perso in doppia cifra contro Colorado State, Villanova, Butler, Seton Hall, Providence e Xavier, che tutti insieme non fanno Kansas, vi esagero, forse Villanova può essere a quel livello ma tutte le altre sono nettamente inferiori a Kansas, quindi Jay Hawks meno 10,5, comunque Jay Hawks vincenti dai, ho cercato, sto cercando di capire, di sbrogliare qualche cosa, punti o rimbalzi sui lunghi di Kansas, proprio per il cronico rendimento pessimo a rimbalzo dei Blue Jays, oppure andare sugli altri lunghi dei Blue Jays in vista l'assenza di Carl Brenner vediamo qui, sarà per gli utenti del VIP Tennessee Michigan, Tennessee a me piace molto, lo continuo a dire e questo può sembrare un consiglio strano, perché io stavo aspettando, purtroppo Bet365 non ci sta fornendo le giocate sulle prestazioni dei giocatori di questa partita, non ho capito perché, Dickinson over assist, strana perché Dickinson non è un passatore, è il centro, rimbalzista, miglior finalizzatore, realizzatore, però secondo me nell'area di Tennessee potrebbe faticare un pochino anche lui, ci sarà molto gioco in pick and roll, però potrebbe anche scaricare scaricare per il gioco da 3, i Volunteers hanno un'ottima difesa, sono 33esimi come punti concessi, 39esimi come percentuali dal campo, però è proprio sul perimetro che hanno il loro diciamo punto debole, visto che concedono il 32% da 3 ed è il centunesimo dato della nazione. Dickinson nell'ultima partita ha servito un solo assist, però ha segnato 21 punti, io non credo segnerà 21 punti anche questa notte contro Tennessee e quindi potrebbe fare qualche assistenza in più, ricordiamoci che nelle precedenti due partite aveva servito 6 assist. E qui veniamo alla free pick, Providence Richmond, la linea sta salendo, vado contro mercato, non mi interessa, under 134,5 è la mia giocata, ora gira su Planet per esempio gira intorno a 1,80, scegliete un bookmaker che non calcoli gli eventuali overtime perché con Providence partite punto a punto, sculate come si dice nel gergo, lo sapete è la squadra con il luck factor più alto secondo Kampon, quindi ci sta che possa andare all'overtime, è una sfida tra l'altro anche equilibrata sulla carta, Providence è favorita di 3, vi devo dire qualcosa qui, nel 66-57, quindi partita a punteggio basso contro South Dakota State, i Freears hanno concesso solo il 30,4% da 3 ai Jackrabbits e voi direte, vabbè, no, i Jackrabbits si presentavano al torneo NCAA come una delle migliori squadre come efficienza dalla lunga distanza, quindi un ottimo dato, e per fortuna perché Providence ha tirato male in attacco, sotto al 40% complessivo dal campo, contro tra l'altro una difesa come quella di South Dakota State che non è il massimo. Providence ha concesso solo 63 punti di media nelle ultime 3 partite, arco di tempo in cui invece Richmond ha tirato con un terribile 28,6% da 3. Richmond ha segnato solo 65,5 punti di media nelle ultime 8 partite, anche Richmond però ha messo a segno un grande upset, Seed 12 ha eliminato Iowa, io non me lo aspettavo proprio e ha limitato l'ottimo attacco degli Okais ad appena 63 punti e al 20,7% da 3. Io spero veramente di vedere una difesa da parte di Richmond come contro Iowa e spero che Providence confermi la propria difesa e il proprio tipo di gioco, visto che entrambe hanno un ritmo molto basso come pace factor, specialmente Providence, quindi io vado su under. Per la vittoria non tutti sono d'accordo perché ne ho parlato anche fuori onda, anche con Mattia abbiamo discusso, secondo me i Friars passano anche questa. Lui dice più 3 Richmond perché potrebbe essere la solita partita punto a punto, però i Friars hanno qualcosa in più, Bynum e Reeves sono due giocatori di qualità, a parità d'attacco i Friars sono superiori per centimetri e a rimbalzo, Richmond ha un mismatch a rimbalzo da non sottovalutare. Quindi mettiamo a bilancio l'under e valutate il resto. Passiamo a UCLA, Sam Marys, anche qui ho poche idee, under 127,5 potrebbe essere un'idea, vedo che la linea è scesa, 126, quindi qui il mercato la pensa come me, però cavolo, è una linea davvero al limite già, perché contro indiani i Giles hanno difeso fortissimo come ci si aspettava, però l'under è saltato, hanno segnato 80 punti. Ora io non credo assolutamente che segneranno 80 punti a UCLA, perché UCLA è una delle migliori difese come punti e percentuali dal campo concesse agli avversari, è una delle migliori difese all'imbalzo, concede poche seconde chance. Secondo Kempom, UCLA è tredicesima e San Marys è addirittura nona come defensive adjusted efficiency. Inoltre queste due squadre hanno tra i due ritmi più bassi della nazione, tornando al pace factor che abbiamo citato anche prima. Ho qualche dubbio in questo caso sulla linea, è davvero bassa, però ci sta che finisca anche con un 110 punti totali, è una partita del genere. Vediamo, vediamo perché San Marys comunque ha segnato tanto contro indiana. Murray State Racer, Sam Peters Peacock, la sfida che non ti aspetti per niente, Sam Peters ha scioccato il mondo, ha battuto Kentucky al primo turno, Seed 15, i Peacocks, mentre Wright State ha rischiato grosso contro San Francisco. Io facevo il tipo per San Francisco, è passata a Murray State. Qui ho poco da dire, Sam Peters ovviamente ha overperformato al primo turno, potrebbe esserci un letdown spot, quindi un calo, ha tanti mismatch in attacco contro la solida difesa di Murray, anche i Peacocks hanno un'ottima difesa, però Murray State è una squadra ben bilanciata in verità, un attacco è ventitresima come punti segnati, ne segna più di 79 a partita, è ventunesima come percentuale al tiro, vince anche la sfida a rimbalzo, Racer's meno 7,5 da qualche ora fa, adesso è già salita a meno 9 addirittura. Anche qua siamo veramente al limite. E probabilmente siamo al limite anche in questa sfida, Arkansas Razorback, New Mexico State Aggies, io con gli Aggies sono andato in cassa, giocandoli da sfavoriti alla prima, hanno battagliato bene con i propri lunghi contro Connecticut, li hanno anche superati a rimbalzo per far capire il potenziale che ha questa squadra in area, io qui consiglio Jalen Williams, Sander 11,5 punti. Il giocatore dei Razorback ha segnato 13 punti alla prima contro Vermont, però nelle precedenti 3 partite non aveva mai superato questa linea, anzi non si c'era mai neanche avvicinato, 4 punti, 6 punti, 9 punti. Parliamo tra l'altro di un giocatore che in stagione ha una media di 10,8 punti, non vedo perché dovrebbe andare sopra media proprio contro New Mexico State che ha già dimostrato di essere bella solida negli interni. Tra l'altro anche qui entrambi stanno giocando a ritmi abbastanza lenti, Arkansas è 108esima come pace factor, New Mexico è addirittura 242esima. Ultima partita della notte, Gonzaga Bulldogs, Memphis Tigers, Bulldogs meno 9,5. Qui invece il mercato sta andando su Memphis, la squadra di Penny Hardaway è cresciuta molto, io l'ho appoggiata al primo turno, è andata bene. Memphis ha una buona difesa però controllare Drew Timmer che arriva da una prova da 32 punti e 13 rimbalzi e Chet Holmgren, 19 più 17, più 7 stoppate di questo personaggio di cui sentiremo parlare anche in NBA, sono duri da tenere. Bulldogs non a caso hanno il miglior attacco della nazione però spesso passa in secondo piano anche la difesa, è la terza migliore come percentuale concessa agli avversari dal campo. Anche qui ho qualche dubbio sulla linea perché Memphis potrebbe poi giocarsela però Gonzaga ha fatto vedere alla prima partita se la stava giocando punto a punto e io stavo impazzendo, non mi ricordo neanche contro quale squadraccia, poi hanno accelerato un po' e hanno fatto vedere che sanno andare forte. Una special torneo di Knit, Wake Forest di Mondi con scontro VCU Rams, io ho consigliato gli sfavoriti, Rams più 5,5, io me l'aspetto una partita punto a punto, non è il torneo principale, è il torneo invitational, quello diciamo più da sfigati, degli esclusi al torneo principale. Wake Forest contro VCU, Virginia Commonwealth, io vado su VCU più 5,5, non me la sto a tirare troppo lunga in questo caso perché volevo chiudere con un'ultima cosa per domani, Auburn-Miami. Allora chi mi segue sa che Auburn l'ho celebrata a metà stagione quando ancora non era il numero uno del ranking, poi è andata a calare e Auburn ha un grosso problema, ha un rendimento esagerato in casa, non ne ha persa neanche una, ha dominato 16-0 con un 12-4 ATS, però non si gioca in casa il torneo in 6A, si gioca in trasferta. Miami ha tenuto un 10-2 con 10-2 ATS in trasferta in questa stagione, ha vinto al primo turno, io continuo a dirlo, secondo me li stanno sottovalutando perché non è ovviamente una squadra a livello di Auburn, però c'è un coach quantomeno di personalità come la Ranaga, in campo i giocatori ci sono, McGuzzi, Miller, Charlie Moore hanno tenuto un record di 4-1 contro squadre del quadrante 1 oltre al 10-2 in trasferta. Magari non la vincono, però più 7,5 secondo me Miami si giocherà, anche questa contro Auburn perché sono proprio due squadre agli opposti, Auburn è più forte ma ha dimostrato lungo tutta la stagione di faticare tantissimo in trasferta, di diventare un pulcino in casa Leoni, Tigri anzi, Auburn Tigers, in trasferta dei Gattini e invece gli Harry Kane secondo me ce la possono giocare. Può essere la sorpresa. Io nella mia analisi di pre-torneo li avevo dati in follia, impossibile final elite 8, quindi attenzione. Va bene ragazzi, ci siamo dilungati anche troppo, inizia la Formula 1, io vi saluto, passate un buon weekend, fate buone scommesse, ma puntate sempre con la testa, ci ritroviamo la prossima settimana con NBA Lane, spero che tornerà anche Mattia per parlare anche di NBA. Un saluto, ciao!